Sì Carla, anche questa sera la cronaca in primo piano Sky TG24, bimba di 7 anni trovata morta annegata in laghetto in un bioparco nel Cuneese. La piccola era stata trovata in fin di vita a 2 metri di profondità in uno dei laghi dell'area verde. Inutili le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori della vittima. Si erano perse le tracce poco dopo le 16 mentre stava trascorrendo il pomeriggio in centro estivo. TG24, fiamme in campagna, Matera, due vigili del fuoco morti mentre spengono un incendio. Il sindaco di Nova Siri volevano salvare una famiglia. I due sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme. Musumeci, commozione e rabbia per questa tragedia, piantedosi si dice addolorato. Sull'Ansa, trovati i corpi del figlio e della madre dispersi nel Garda, avevano trascorso una giornata al lago. E sulla DNA Cronos, Roma, incendio a Casal Lombroso, evacuati residenti, pioggia di cenere fino in centro. Il Campidoglio chiede di tenere chiuse le finestre. Un secondo importante rogo si è sviluppato anche nella zona di Tor Vergata. Lavoro vigili del fuoco e protezione civile, situazioni critiche. Carla, queste le notizie di questa sera a te.